Buonasera a tutti, stasera consegniamo ufficialmente i certificati lasciati dal Trinity College ai nostri allievi. C'è pervenuto oggi il pico contenente le certificazioni lasciate dal Trinity College London per gli allievi che hanno conseguito le certificazioni quest'anno. Le consegniamo ufficialmente oggi e quindi chiamiamo Luca Naccarone che ha conseguito la certificazione inizial per il pronuncello. Prego, complimenti Luca, puoi tornare al posto. E Matteo Naccarone che ha conseguito la certificazione del Trinity College. Grade 2 Complimenti Matteo Entrambi gli studenti hanno seguito esame con distinzione e siamo molto contenti del risultato raggiunto. Le certificazioni di Trinity College da scorso anno possono essere conseguiti anche con il Digital Exam, ovvero un esame fatto ed inviato direttamente al Trinity College caricandolo sulla piattaforma e poi viene valutato dalla Commissione. L'esame può essere anche fatto comodamente in ogni città e in ogni scuola che è abilitata come centro esame Trinity College. Grazie e buonasera. Grazie e buonasera. Grazie a tutti.